Un lungo elenco di 842 nomi di vittime di mafia, tra cui 80 bambini. Li ha ascoltati Papa Francesco a Capochino nel pomeriggio di venerdì nella veglia di preghiera con i familiari delle vittime innocenti, organizzata dall'Associazione Libera di Donciotti a Roma, nella parrocchia di San Gregorio VII. Accorato all'appello del Papa ai mafiosi, cambiate vita, convertitevi, fermatevi di fare il male, e noi preghiamo per voi, convertitevi, lo chiedo in ginocchio, ha detto, è per il vostro bene. La vita che fate, ha aggiunto il Papa, non vi darà felicità e non porterete con voi il potere e il denaro. Il potere, il denaro che voi avete adesso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi, è denaro insanguinato, è potere insanguinato e non potrai portarlo nell'altra vita. Convertitevi, ha insistito, ancora è tempo per non finire all'inferno. E Donciotti da parte sua ha detto che le mafie, la corruzione, l'illegalità, assassinano la speranza, ma c'è una chiesa che denuncia l'incompatibilità tra mafie e Vangelo.